Rifacciamo il video visto che prima l'ho registrato e mi sono scordato di attivare l'audio Ciao ragazzi Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, grazie per aver aperto il video e per il vostro interesse al mio canale Ragazzi come vi ho visto dal titolo oggi andremo a vedere un'idea geniale per Clash Royale E sono sicuro che a tutti voi piacerà E se vi piacerà ragazzi vi invito tutti quanti a lasciare un pollicione in su Tantissima roba ragazzi, oggi andremo a vedere la modalità single player Ebbene si ragazzi l'ho creata, l'ho creata ed è venuta una cosa eccezionale Per il momento penso sia l'editing più figo e più reale che io abbia mai fatto sul mio canale Quindi andremo a vedere di che cosa si tratta, tra pochissimi vi faccio vedere lo speed art Ma prima di cominciare so che molti di voi mi chiederanno Hammer Miley Sneak Peek del 26 Ragazzi ricordatevi che quando dico leaks vuol dire voci Quelle del 26 e del 2 marzo come update a quanto pare erano solamente delle voci Ma ragazzi non vi preoccupate perché anche se erano delle voci Noi sappiamo per certo che a marzo, forse nelle prime due settimane ragazzi A marzo avremo l'aggiornamento su Clash Royale Si questo è sicuro ragazzi, è sicuro Quindi questo significa che tra poco avremo gli sneak peek Potrebbe essere questa settimana oppure quella prossima massimo perché ormai ci stiamo avvicinando no? Manca pochissimo l'anniversario di Clash Royale quindi mi raccomando non vi preoccupate Anche se quelli di prima erano solamente dei leaks che purtroppo non si sono avverate Non mancate perché tra poco cominceranno gli sneak peek Ci siamo, non sappiamo quando cominceranno con esattezza Ma ci siamo ragazzi Do sento, state sempre sintonizzate al canale Dunque signori passiamo subito alla modalità single player Ecco la partita signori, come state guardando qui ho ripreso l'idea quindi di Clash of Clans Dell'interfaccia utente della modalità single player di Clash of Clans Comincio con gli stessi colori, stesse dimensioni Ma ragazzi state attenti perché per tutto il processo ci saranno dei cambiamenti drastici Come sempre quindi da adesso fino anche al risultato finale ci saranno anche dei cambiamenti enormi Non perdetevelo assolutamente e fatemi sapere cosa ne pensate Adesso vi dico che cosa ragazzi ho pensato io Perché giustamente ho buttato giù questa idea La mia idea ragazzi è di una modalità single player nella quale abbiamo 10 arene Quindi 10 punti da far fuori insomma no? Ogni arena ragazzi è ripetibile solamente se non raggiungiamo le 3 corone Quindi ogni arena, quindi dall'arena 1 all'arena numero 10 Un po' come state guardando qui su Clash of Clans Dovremo attaccare e far fuori l'avversario Che sostanzialmente ragazzi sarà contro il PC tra virgolette no? Quindi un po' ragazzi come il training camp no? Ogni arena avremo la possibilità di fare da 1 a 3 corone Un po' come da 1 a 3 stelle su Clash of Clans Se ad esempio in arena 2 facciamo solamente una corona Potremo rifarla finché noi raggiungiamo le 3 corone Quale sarà quindi il bottino nella modalità single player di Clash Royale? Ho pensato a questo, sentite ragazzi che idea geniale Se facciamo 3 corone in tutte 10 le arene nella modalità single player Raggiungiamo un massimo totale di 500 gemme Quindi ogni arena se facciamo ad esempio 2 corone avremo una certa quantità di gemme ed oro ottenuto Quindi totale 500 gemme e in oro invece totale 10.000 oro Che va insomma in corrispondenza a quello che è l'offerta nello shop O meglio il pacchetto nello shop attuale di Clash Royale Quindi ecco qui state guardando quindi che ho cominciato a creare gli obiettivi insomma Tra virgolette nella quale andremo ad attaccare Poi basso anche chiaramente i puntini per far vedere insomma Una sorta di tracciato come quello su Clash of Clans Fatemi sapere cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti Potrebbe essere ovviamente una modalità Voi direte si ma dopo che ad esempio in un giorno facciamo tutto quanto E finiamo poi possiamo rifare tutto? Stavo pensando una cosa un po' come il bauro del clan Quindi che ogni weekend o magari ogni due settimane Appare la modalità single pair in una nuova finestra su Clash Royale Che possiamo quindi fare ed ottenere gemme e oro Forse sono tantini 10.000 oro e 500 gemme Ma però è un'idea veramente molto bella Sono sicuro che vi piacerà Ci saranno dei cambiamenti drastici nel risultato finale Mi raccomando non schippate Guardatevi tutto il video E vi lascio ragazzi allo speed art Pollicione in su se volete ragazzi un'altra creazione Buona visione Buona visione Buona visione Buona visione Buona visione Buona visione Buona visione